Sei mainstream o underground? Prima di proseguire con il video ed entrare nel dettaglio di queste due definizioni che possono sembrare anche un po' oscure, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Partiamo da un presupposto. Mainstream e underground sono le definizioni corrette di quelli che malamente definiamo commerciale e alternativa. Quindi togliamoci subito dalla testa queste parole che non solo non mi piacciono per niente ma sono del tutto fuorvianti per capire ed inquadrare il lavoro di un DJ o di qualunque tipo di contesto. Il primo modo per cercare di orientarsi è capire che mainstream corrisponde a quello che erroneamente viene definito commerciale e underground corrisponde a ciò che è considerato alternativo. Però sono due definizioni molto più profonde che nascondono una scelta importantissima da fare fin da subito. Faccio subito una considerazione non è possibile essere qualcosa a metà tra l'una e l'altro una via di mezzo o soprattutto non è possibile essere entrambe le cose. Si sceglie se essere o mainstream o underground. Poi può succedere di tutto, si può ottenere quello che si ottiene e si può anche riuscire a passare da una all'altro. Però ciò avviene in una direzione soltanto. Qualcosa che è underground finisce per diventare di moda e allora diventa mainstream. La prima caratteristica importante è che quando diventi mainstream non puoi tornare indietro tra virgolette ad essere underground. E questo è uno dei motivi principali per cui è opportuno fare questa scelta nel modo più consapevole possibile e cercare poi di raggiungere quella strada prefissata. Un'altra caratteristica importante è che il contesto underground non consente errori e non consente cadute di stile, diciamo così, nel mainstream. Allora, se vuoi appartenere ad un contesto di questo tipo, qualsiasi puntata dall'altra parte può essere controproducente perché finisci ad escluderti completamente da quel contesto. Ma di contesto ne parliamo specificatamente in un video dedicato. Guardando dentro te stesso decidi, vuoi essere mainstream, quindi per tutti o underground, ovvero per una nicchia specifica, per un pubblico veramente caratterizzato e con dei gusti molto più particolari, con ognuna delle due scelte, scegliendo ognuna delle due parti, rinuncia a qualcosa. Se vai in una direzione più particolare significa che quello che fai non può essere adatto a tutti, non può essere adatto a tutti i contesti e soprattutto ha alcune limitazioni nella capacità di accedere a determinati tipi di serate o comunque se ne trovano meno se vogliamo o sono più particolari e selettive. Nel contesto più generalista invece si può proporre magari in molti più ambienti, però ti toglie la considerazione da parte di chi opera nel contesto più specifico e questo è da tenere in considerazione. Non c'è una scelta giusta, si parla di definire la propria identità, si parla di definire i propri gusti e le ambizioni. Se c'è una confusione in questo, si fa un po' di qui e un po' di là, si finisce per non riuscire ad intercettare propriamente né l'uno né nell'altro ambito e questo può essere assolutamente controproducente. La scelta riguarda il tipo di musica, il tipo di ambienti, anche il look, lo stile, e tutto ciò che ci sta intorno. E allora è bene cercare di avere le idee chiare. Non è una cosa che si decide a tavolino fin da subito, la cosa migliore è seguire quello che ti piace, quello che ti rappresenta, quello che ti convince di più. Non c'è una scelta giusta che ti può indicare qualcun altro. Si tratta semplicemente di seguire quello che ti interessa e laddove ti interessa qualcosa di specifico e ben definito, cercare di coltivarlo il più possibile anche se il panorama di quello che ti offre il tuo contesto di riferimento può essere molto limitato. Ho accennato spesso alla parola contesto, infatti rimando al video specifico fin da subito. Ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Grazie.